ciao a tutti e ben ritrovati per una nuova avventura assieme hi everybody and welcome to new adventure oggi esploriamo l'isola superiore o più comunemente chiamata isola pescatori del lago maggiore today we are at lake maggiore we explore the isola superiore or isola pescatori which means fisherman's island l'isola pescatori è facilmente raggiungibile in battello da stresa verbagna pallanza e baveno per prendere il battello non hai bisogno di particolari prenotazioni puoi acquistare il biglietto anche appena prima dell'imbarco the isola pescatori can be easily rich by boat from stresa per bagna pallanza and baveno to take the boat you don't need to buy the ticket in advance or make a reservation you can also buy the ticket just before boarding l'accesso all'isola pescatori è libero e non devi pagare alcun biglietto d'ingresso a parte una piccola tassa del comune di stresa che comunque è già inclusa in quanto pagato per prendere il battello you do not have to pay any entrance fee apart from a small tax from the municipality of stresa already included in the amount paid to take the boat perché venire sull'isola pescatori? perché è molto caratteristica e bella da esplorare specialmente dopo un buon pranzo in uno dei ristoranti che si trovano qui le ore trascorse su quest'isola sono sempre speciali welcome to isola pescatori because it is very caratteristic and beautiful to visit especially after a good lunch in one of the good restaurants you can find here hours spent on this island are always unique dopo pranzo andiamo a fare qualche foto in uno dei luoghi più instagrammabili dell'isola da qui si vede molto bene il bel palazzo della vicinissima isola bella after lunch we take some pictures in one of the most instagrammable places on the island from here you can see very well the beautiful palace of the nearby isola bella or beautiful island dietro all'isola bella abbiamo stresa behind the isola bella there is stresa bene 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 ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo ora dalla parte opposta della nostra isola Pescatori, in modo da vedere meglio l'isola madre e Verbagna. Nel farlo attraverseremo dei luoghi molto caratteristici dell'isola. Let's go now to the opposite side of Pescatori Island to see Isola Madre and Verbagna better. In doing so, we will see some of the very characteristic places of the island. Quando visitare l'isola Pescatori? Il periodo migliore è sicuramente durante la bella stagione, ma è un'ottima idea anche venire durante l'inverno. What is the best period to visit Isola Pescatori? Naturally, the best time is during the spring and summer, but it is also good to come during the winter. Isola Pescatori Island to see Isola Pescatori Island. Bello anche questo lato dell'isola con questo panorama, vero? The side of the island with this view is also beautiful, what do you think? Se ti piace particolarmente questo panorama, puoi scegliere di pranzare in uno dei ristoranti su questo lato. If you prefer this view, you can choose to have lunch in one restaurant on this side of the island. If you prefer this view, you can choose to have lunch in one restaurant on this side of the island. if you prefer this view just a little bit more or a little bit more, but it is definitely a child. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo percorrendo il viale alberato che abbiamo visto dal battello. Stiamo camminando la strada di tre linee che abbiamo visto dal battello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di fronte a noi vediamo Baveno. In front of us we see Baveno. In fronte a noi vediamo. 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 Siamo ora tornati al nostro punto di partenza, ma c'è ancora molto da scoprire. Noi vediamo. In fronte a noi vediamo. In fronte a noi vediamo. 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 vediamo. Noi 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 vediamo. Ora è proprio tempo di andare, salutiamo questa bella isola e io saluto anche te, metti un bel like e iscriviti al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao a presto! Ora è il momento di andare, diciamo ciao a questa bellissima isola e io direi anche ciao a voi, piacere e iscriviti al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao a presto! A presto! A presto! A presto!